Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale, torno all'appuntamento con le cover degli anni 2000 andremo a vedere quindi quei brand degli anni 2000 che sono cover, i brand degli anni precedenti e allora siete pronti? Iniziamo! Partiamo da Preziose Marvin, Let's Talk About The Man La melodia è ripresa da un brano del 1979, ascoltiamolo Passiamo a Trance and Acid 2002 Passiamo a Trance Hearing the music is just like seeing the colors of trance and feeling the power of facets Trance and Acid 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 La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1984. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995. La melodia è ripresa da un brano del 1995.